A due anni dal naufragio della Costa Concordia che costò la vita a 32 persone, il comandante Francesco Schettino torna a bordo della sua nave per il secondo sopralluogo al generatore di emergenza che quel 13 gennaio 2012 non funzionò. Schettino è stato il primo del suo gruppo a sbarcare da una pilotina e salire da una scala esterna appoggiata al relitto. Il 23 gennaio, data del primo sopralluogo, non lo fece ma adesso la situazione è diversa e visto che gli imputati hanno diritto di recarsi nei luoghi dei fatti di cui li accusano, Schettino ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Grossetto di partecipare a questo nuovo sopralluogo. Ma non dovrà fare il consulente, aveva chiarito il presidente del collegio Giovanni Puliatti. L'imputato non dovrà interloquire con i presenti ma solo assistere alle operazioni dei periti. Per la difesa, come dice l'avvocato Domenico Pepe, la presenza di Schettino sarà fondamentale nella ricostruzione dei fatti. Presenza di Schettino è importante perché siccome è una nave estremamente complessa con una serie enorme di sistemi elettronici, elettromagnetici, elettrici e quant'altro, sapere dove sono ubicati tutte le valvole o sono ubicate per esempio nel caso del gruppo elettrogeno di emergenza gli interruttori o quant'altro e cosa avrebbe dovuto fare l'interruttore che non ha fatto e perché non ha svolto la sua funzione e nello stesso tempo poter verificare con la presenza del comandante in quei minuti esattamente che cosa è successo diventa un apporto importante per i consulenti tecnici e per i periti. Insieme a Schettino a bordo della Costa Concordia anche i PM di Grosseto, Alessandro Leopizzi e Stefano Pizza. Non parteciperà alle operazioni invece il procuratore capo Francesco Verusio. Assente per protesta nei confronti dell'andamento del processo sul naufragio anche il legale del Codacons, un processo, afferma il presidente Carlo Rienzi, che dopo la violazione dei sigili non ha più senso.